buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 15 luglio 2024 iniziamo insieme una nuova settimana iniziando la giornata con la lettura dei giornali come sempre il resto del carlino il Corriere Adriatico sulle croniche locali le croniche nazionali oggi sono piene dei particolari per quanto riguarda l'attentato a Donald Trump che è sopravvissuto ad un attentato che è compiuto da un giovane ventenne che poi è stato ucciso dalle forze del presidente delle forze dell'ordine del presidente presidente ferito a un orecchio abbiamo tutti i particolari sulle croniche nazionali gli appostamenti e tutto quello che è seguito dopo l'attentato comunque il presidente sta bene e ora è presente alla convention dei repubblicani che dovrebbe sancire di nuovo la sua elezione la sua candidatura a presidente degli stati uniti e allora vediamo intanto i giornali a carattere locale partendo come sempre dal l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ecco la grafica è san buonaventura da bagno reggio siamo nel tredicesimo secolo frate francescano laureato in filosofia e in teologia all'università di parigi fu priore generale dell'ordine dei frati di san francesco ed era stato destinato da papa clemente iv a coprire l'arcivescovado di york in inghilterra però insomma buonaventura rifiutò questo incarico non si credeva degno di ricoprirlo ma poi di lì a poco gregorio decimo che era succeduto a clemente iv lo lesse cardinale addirittura e vescovo di albano ebbene san buonaventura morì a 53 anni a lione in francia mentre come legato pontificio si stava recando a lione dove il papa aveva indetto un concilio nonostante che ricopriva queste grandi cariche quindi era un'autorità della chiesa autorità anche dal punto di vista culturale perché scrisse dei libri di particolare importanza ebbene nella sua vita si comportò sempre da umile frate francescano e quindi questo aiutò la sua santificazione che noi tutti oggi ricordiamo e poi passiamo alle previsioni del tempo una giornata pienamente estiva anche oggi sulle marche caldo in ulteriore aumento se è possibile le temperature massime raggiungeranno dicono i giornali oggi pensate 37 39 gradi e la minima dovrebbe essere stata sui 23 gradi e questo vuol dire che la situazione si fa sempre più difficile in modo particolare per coloro che hanno una certa età che hanno delle malattie croniche e quindi devono proteggersi vediamo un attimo poi nelle cronache quello che è accaduto a una coppia marchigiana per quanto riguarda la temperatura pensate una donna aveva acceso riscaldamento perché il fratello sentiva freddo ebbene quando sono entrati i soccorsi hanno trovato una temperatura all'interno del loro appartamento di 60 gradi la donna completamente disidratata è stata salvata per i capelli l'hanno presa per i capelli veramente il caso di dirlo ovviamente è un eufemismo però insomma rende bene l'idea il caldo veramente uccide il troppo caldo uccide ebbene però a questo punto passiamo alla lettura dei giornali non trascurando di dire però che i venti spireranno da nord est nella costa ovest sud ovest nell'entroterra il sole è sorto alle 5 e 38 e tramonterà alle 20 e 48 di questa sera allora apriamo anzi non apriamo perché lo vediamo in prima pagina il sunto delle notizie a carattere regionale pubblicato dal resto del carlino vediamo subito le notizie che riguardano la provincia di pesaro si parla dell'attività degli esercizi d'estate i giovani vogliono divertirsi però non sempre questi esercizi hanno le autorizzazioni i giovani quando sentono la musica fremono non stanno fermi vogliono ballare ma non tutti non tutti gli esercizi hanno le autorizzazioni prescritte per permettere ai giovani di ballare e qui si parla appunto della guerra del ballo del ballo libero ma in pochi in pochi il sindaco sbaglia e a fare questa osservazione è un rappresentante di categoria piuttosto noto ovvero il direttore pesarese e i paso multe in base al numero le regole sono uguali per tutti poi vedremo il perché di questa dichiarazione e poi abbiamo una dichiarazione del presidente della camera di commercio regionale sabatini che fa un esame della situazione delle industrie a carattere regionale soffre la meccanica soffre la moda in modo particolare la produzione è in calo del 25 per cento a pesaro si svolgerà dal 28 agosto al primo settembre la festa regionale della unità è proprio da pesaro che il partito democratico intende ripartire per riconquistare le posizioni perdute a livello politico vediamo poi la pagina di ancona si parla della falesia di numana che si sta sbriciolando perché una grossa frana ha gettato in mare veramente tonnellate di roccia di vieti ignorati e arriva la moto vedetta della guardia costiera e qua vediamo la notizia che vi ho accennato soccorsa a una coppia di anziani accendono il riscaldamento e rischiano la morte nella casa forno la città che non va la città che non va la parte della città di ancona che non va al passetto ci sono turisti in rivolta perché insomma l'ascensore che permette ai turisti di scendere verso la costa è un ascensore da terzo mondo così viene definito vediamo anche molte notizie di cronaca nella provincia di ascoli e fermo malore in piscina durante la festa salvato un ragazzino di 16 anni e poi ancora va a funghi stroncato da un infarto a montagna e purtroppo un incidente fatale con lo scooter un giovane legale muore a roma era originario di pedaso porta a solestà luca innocenzi da record la mia vittoria numero 17 alla quintana di ascoli piceno anche ascoli piceno ieri ha festeggiato questa grande questa grande rievocazione storica così come lo ha fatto fanno non c'è nessun richiamo per quanto riguarda l'affanno dei cesari sulla prima pagina del quotidiano nazionale però insomma all'interno abbiamo ampio resoconto di quello che è accaduto nella giornata di ieri a macerata una gestione di rifiuti in provincia business da 600 milioni di euro e poi un ubriaco al volante si schianta contro un albero e viene ricoverato in gravi condizioni aveva 50 a 52 anni a monte cosaro paralizzato dopo la caduta in bicicletta ebbene deve affrontare una nuova vita certo non facile come probabilmente non più facile come era la precedente abbiamo dato un'occhiata completa alle cinque province marchigiane ora apriamo il giornale e approfondiamo le notizie per quanto riguarda pesaro urbino ho accennato alle dichiarazioni del presidente regionale della camera di commercio Gino Sabatini il quale lancia l'allarme per quanto riguarda la produzione industriale nella meccanica un calo del 25 per cento e a settembre ottobre non basta addirittura questa percentuale peggiorerà è stato tracciato un quadro negativo ma non solo da Sabatini hanno parlato anche Rossini della Will e anche Bordoni della CNA tutti vedono nero tutti vedono sono pessimisti per quanto riguarda la produzione questo veramente è un grosso problema per la nostra provincia perché poi questo si ripercuote sulle assunzioni sulla occupazione e chi poi magari rimane disoccupato produce anche un calo per quanto riguarda un calo a catena per quanto riguarda settori come il commercio come il turismo e come settori meno meno pregnanti insomma non i primari che sono quelli dell'agricoltura e quelli dell'industria quelli del commercio che poi è il terzo settore per quanto riguarda l'importanza dell'economia però insomma si tratta di una situazione sempre più difficile veniamo anche le notizie che riguardano le feste il ballo il ballo i giovani siamo però siamo il giorno dopo del weekend e quindi anche il sabato la domenica sono i giorni in cui i giovani amano più divertirsi il paso eccolo qui nella fotografia nella qui nella fotografia direttore della confesa centi di pesalo contesta la versione possibilista di biancani il nuovo sindaco aveva così concesso qualche deroga per quanto riguarda quegli esercizi dove non ci sono molti giovani che sono all'interno e quindi se si fa un po di musica e qualcuno fa un saltello dice beh si può chiudere un occhio mentre se poi invece la sala viene gremita da tante tante persone allora bisogna applicare la legge questo ha detto il sindaco ma l'ha detto anche l'assessore francesca franquellucci e sarà mengucci in merito alle feste che sono state cancellate perché gli operatori dicono se siamo oppressi dalle norme non facciamo più le feste non vogliamo pagare le multe ma questo però non sta bene non sta proprio bene davide ipaso direttore della confesa centi di pesalo il quale chiede chiarezza ebbene dice se c'è una norma bisogna farla rispettare non si può chiudere un occhio a secondo della situazione di quello o di quell'altro se c'è una norma deve essere valida per tutti altrimenti togliamo la norma questo è un po il discorso l'osservazione pragmatica che fa il rappresentante di categoria festa dell'unità regionale il partito democratico sceglie di farla a pesaro grazie ai voti delle europee si riparte da pesaro per scalzare acquaroli secondo quello che dice la segreteria regionale e anche provinciale del partito democratico il pd se vuole ricominciare a vincere qualche elezione al di là del risultato delle europee deve ripartire da pesaro ebbene è una dichiarazione della segreteria della segretaria regionale chantal bonprezzi alle prese peraltro con le divisioni di un gruppo consigliare che certo non rafforzano la conduzione politica del partito alla luce dell'esito dell'ultimo appuntamento elettorale che a pesaro è stato veramente importante per il centro sinistra ossin da subito espresso la volontà di organizzare la festa regionale a pesaro dichiarato la bonprezzi come segno del riconoscimento della capacità di un territorio e della sua classe dirigente e di riconquistare la regione il successo che ottenuto anche in forma personale matteo ricci che ha ottenuto una marea di voti ora è eurodeputato insomma dà la carica anche al partito democratico vediamo poi la notizia di pesaro e di fano scusate la notizia di fano si parla della fano dei cesari fano dei cesari la corsa vince d'impeto la volpe più di 2000 figuranti 500 posti in tribuna tripudio di spade scudi e aurighi e qui si comincia sempre a sbagliare il plurale di questa parola siccome il singolare è auriga si pensa che poi il plurale sia aurighe ma le aurighe sono donne quindi il plurale dovrebbe essere aurighi ma questa è una vecchia storia che si continua a ripetere di anno in anno successo vediamo questo è una questione di linguaggio che è molto molto secondaria successo per la sfida romana che ogni estate entusiasma fanesi e turisti ebbene c'è stato un caldo infernale dobbiamo dirlo nella giornata di ieri comunque la manifestazione l'evento si è realizzato si organizzato in serata quindi un po la situazione era temperata bellissima la scenografia dell'arco di augusto delle mura romane del pincio che è stato organizzato come un'arena da circo dell'antica roma i figuranti sono stati tantissimi e molto molto bravi hanno allestito delle scenografie hanno raccontato dei miti con i loro costumi con i loro atteggiamenti con le loro esibizioni bella quella dell'aurora della ginnastica aurora e poi lo spettacolo veramente di tante persone sia di singoli che di gruppi e poi ogni tanto appariva un grande carrello un grande carretto diciamo così pieno di le cornie pieno di porchette di di formaggi di di insomma di salumi che veramente appartenevano un po al al modo di vivere la gastronomia dell'antica roma è stata vinta dalla fazione della volpe abbinata all'auriga faustus al secondo posto è giunta la fazione del cinghiale abbinata all'auriga lavius terzo il delfino con l'auriga flavius ultima la fazione del lupo come di consueto la corsa nell'anello del pincio è stata preceduta da un imponente corteo in costume dove si sono così esibite tutte le fazioni la volpe il lupo il cinghiale insomma tutte le tutte le fazioni di cui abbiamo detto e la sfilata è stata aperta dal sindaco nelle vesti di cesare ottaviano augusto accanto alla sua compagna e il figlio letto di pochi mesi una bellissima entrata a fatta da fatta da ser felipi e poi dietro di lui tutti gli amministratori la vice sindaca loretta manocchi poi assessore agli eventi e grande manifestazioni alberto santorelli e tutti gli altri mauro talamelli lucia tarsi francesco cavalieri poi c'era anche la consigliera regionale marta ruggeri e c'era anche l'assessore l'assessore regionale francesco baldelli insomma un gruppo di autorità a sancire l'importanza di carattere turistico di carattere economico anche di questa manifestazione e vediamo come il corriere adriatico parla di questa di questo evento lo vediamo qua nel titolo corsa delle vighe ha vinto la volpe lauriga faustus al quinto successo vince sempre lui la fazione del delfino realizza la migliore sfilata e una dichiarazione dell'assessore santorelli viene estratta e messa qui sul titolo questo è un evento che prenderà il volo ha già preso il volo ma l'amministrazione comunale intende fare di più perché con la costituzione dei consigli di quartiere ci sarà anche una diversa organizzazione saranno i consigli che organizzeranno la sfilata di ogni di ogni fazione e quindi ci sarà ancora più partecipazione di gente ma già ieri veramente la gente era tantissima quasi duemila persone che hanno sfilato nell'anello del pincio e poi ci sarebbe da dire tante altre cose ma a questo punto insomma non insistiamo oltre parliamo invece di quello che è accaduto il giorno prima il sabato lingue di fuoco e zampilli d'acqua per il mito di nettuno questa volta veramente questa questo evento propedeutico alla corsa delle bighe ha così è stato veramente un grande un grande successo uno spettacolo bellissimo di fontane zampillanti accanto del arco accanto all'arco d'augusto che hanno assunto dei colori bellissimi e delle immagini veramente mitologiche insieme a nettuno divinità mitologica del mare dell'acqua hanno spiegato i promotori della colonia giulia fanestri ci siamo tuffati in magiche storie popolate da creature marine che hanno danzato con noi davanti alla cornice dell'arco di augusto la cornice dell'arco d'augusto veramente è una cornice reale non artefatta di quello che era l'antica Roma ed ora diamo purtroppo una notizia non bella anzi veramente molto molto brutta ieri era una giornata festiva tanta gente al mare e purtroppo è accaduto un incidente che non doveva accadere un anziano che passeggiava nell'acqua nella spiaggia libera tra i bagni crida e la spiaggia di fiori a Gimarra ha avuto un malore è caduto e purtroppo è annegato colpito da un malore annega vicino alla riva dice il titolo era solo nessuno lo vede shock in spiaggia la vittima è Fulvio Pierini un fanese di 84 anni abituale frequentatore del litorale libero di Cimarra quasi ogni giorno con la sua poltroncina sostava davanti alla battigia poi faceva quattro passi quattro passi insomma faceva una piccola passeggiata nell'acqua così per attivare la circolazione i medici dicono che fa bene però anche il bagnino il titolare Davide Bartolucci dei bagni crida fa un appello si va bene passeggiare nell'acqua ma non lo fate nelle ore in cui non c'è nessuno che possa aiutarvi perché un malore è sempre possibile uno si sente bene poi ad un tratto accusa dei dolori e allora se non c'è nessuno che possa intervenire subito per fare tutte le pratiche che servono per scongiurare la morte ebbene questa diventa inevitabile e purtroppo è quanto accaduto vediamo anche una presa di posizione da Giannetto Palluzzi Giannetto Palluzzi è un consigliere della Carnevalesca che osservando un po' i cantieri che ci sono nella città di Fano pensate ce ne sono ben 80 tra quelli attivati e quelli ancora in itinere per quanto riguarda la fase burocratica afferma che questi cantieri danno un'immagine un po' spenta della città sono cantieri un po' amorfi, cantieri scialbi, cantieri di un colore bianco, bianchetto, beige non ci sono quei bei colori di una città ispirata dal Carnevale che dovrebbe avere ed è questa una presa di posizione che coinvolge anche un po' tutto il consiglio della Carnevalesca che vorrebbe una città più viva, una città più allegra, una città più multicolore ed è un appello che Giannetto Palluzzi rivolge anche all'amministrazione comunale ma rivolge anche ai progettisti, a coloro che appunto costruiscono nuove case oppure che fanno i progetti per l'amministrazione comunale una città più Carnevalesca è quello che appunto vorrebbe Palluzzi Passiamo a Pergola e vediamo che ha avuto successo il treno a vapore che da Ancona passa in quelle zone il treno viene definito tra memoria e futuro un grande incentivo al turismo è il vice sindaco di Pergola, Baldelli che interviene sull'esuccesso ottenuto dalla locomotiva a vapore da Ancona il treno storico della Sub Appennina l'iniziativa è stata proprio voluta da Francesco Baldelli giunta alla terza edizione ha ripreso le sue corse di successo tra Mare e Coline sono molte le persone che approfittano per questo treno turistico che attraversa un po' tutto l'entroterra con i suoi sbuffi a vapore come era una volta un caso di sanità che viene contestata è riferito da questo articolo a fondo pagina che viene da Fano però insomma si riferisce anche alla guardia medica di Mondolfo dunque dal medico di famiglia alla guardia medica fino al pronto soccorso di Fano è questo l'iter che ha compiuto una signora che ha avuto dei problemi alla sua pelle accusava un prurito e gonfiori sulla pelle ebbene dopo aver consultato il medico di famiglia che le ha prescritto una visita dermatologica ebbene questa signora si è rivolta alla guardia medica di Mondolfo per trovare appunto queste medicine guardia medica però che è stata trovata sguarnita allora è andata al pronto soccorso però qui è stata dimessa con codice bianco e gli hanno fatto pagare anche il ticket protesta alla donna sono sconcertata ha detto perché nonostante tutto questo ite il mio problema alla pelle non è stato risolto dicono che ho la varicella ma allora qualcuno mi dovrà curare? questo è appunto l'interrogativo che viene evidenziato vediamo anche la pagina di Senigallia lo facciamo in fretta perché siamo in conclusione della nostra rassegna stampa si parla di Ponte Garibaldi questo ponte che ancora deve congiungere le due sponde del Misa Ponte Garibaldi ecco il reddering lo vediamo qui in questa fotografia è un ponte che assomiglia un pochino però in scala più ridotta il nostro quello che è nel portocanale di Fano ma adesso servono altre correzioni la soprintendenza dà l'ok però con delle prescrizioni completato quello del vallone che ora è a posto manca solo il collaudo e sono questi problemi creati dall'alluvione a Senigallia che ancora devono trovare una loro soluzione ebbene con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 e per le notizie del giorno non perdetevi il TG di Fano TV occhio alla notizia alle 20.30 di questa sera grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti